Sicuramente abbiamo lavorato per portare su i giocatori che erano un po' indietro, chi è arrivato, chi è tornato all'infortunio. Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti, adesso bisognerà vedere se teniamo le tre partite. Credo che l'obiettivo della prossima partita, oltre a dare continuità a un risultato positivo, quello di Venezia, è proprio questa. Inizia ad essere un po' scomodo che fuori casa vinciamo spesso e in casa non riusciamo più a vincere. Perciò sicuramente è un obiettivo nostro sfatare questa cosa. Ma è un Ascoli abbastanza nuovo, noi abbiamo preso tanti giocatori stranieri da fuori, perciò che si conoscono poco, che comunque dovranno ambientarsi in questa Serie B, che non è facile, perciò comunque l'Ascoli è sempre una squadra fastidiosa, sempre un organico importante, ha un budget a disposizione importante per fare le rose, perciò c'è una partita dura. Abbiamo una rosa competitiva, la Serie B quest'anno è, a mio parere, più difficile rispetto all'anno scorso, tante squadre forti, tante squadre che hanno speso, è vero che c'è stato il Covid e tante lo hanno potuto, ma sono arrivate in B squadre che hanno mostrato una grande forza. Io credo che la squadra, se abbiamo pazienza, potrà fare un gran campionato, come alla fine ha fatto l'anno scorso, per me, alla fine ci siamo giocati la Serie A l'ultima partita, abbiamo chiuso la porta a noi, l'ultima partita l'abbiamo fatta a noi, perciò adesso ogni domenica sembra l'ultimo esame, ma io non lo sento così, poi ognuno fa i propri calcoli, le proprie cose, io vedo come un percorso, un campionato lungo, difficile, con tante incognite, dove bisogna stare sereni e lavorare, poi dopo vediamo come finirà.